ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per un nuovo capitolo io sono maxi questa è diciamo una nuova serie una nuova ma vecchia che volevo far ripartire la serie delle gare in questo caso farò tutte gare che vi andrà che voi mi direte e magari le possiamo anche fare insieme voi lasciatemi nel video comunque un commento con un link della vostra cara oppure mandatemelo come messaggio privato su youtube o su facebook io andrò a vedere la gara che voi volete far pubblicare su youtube e magari la faremo insieme se siamo amici non lo siamo lo diventiamo e niente ragazzi passiamo a questa gara questa gara che io sono già partito speriamo di arrivare primo e speriamo che tutti gli altri giocatori giochino in maniera corretta c'ho qualche dubbio comunque va bene continuiamo questa gara è super stunt car una delle mie creazioni ecco come dicevo maniera corretta sì sì e adesso vedremo allora una delle mie creazioni la seconda delle mie creazioni super stunt car infatti si chiama super stunt car 2 ne esistono tre di queste gare la prima è un po più corta e la terza diciamo è molto più lunga e si chiama super stunt car final final o come cazzo la volete chiamare vedremo se questo se ne va da davanti la vanna a cura sbatte anzi io ho nato da solo però va bene e niente non è una gara tutto sto malato però è abbastanza divertente ragazzi perché ci sono due incroci con vari centi di marcia come avete visto io ho appena schivato un altro giocatore e il bello della gara è cercare di non di non andare a sbattere contro gli altri giocatori cosa che ok adesso siamo pochi in gara e quindi nulla diciamo che le collisioni sono poco frequenti guarda se si leva però diciamo che quando si è in parecchie persone questa gara diventa molto ma molto divertente perché ricca di collisioni con persone che stanno facendo il nostro giro o altre persone che stanno facendo il giro contrario insomma come come vedremo io ho già incrociato qualcuno a mezz'aria vediamo se questo mi fa passare guarda come lagga ho già incrociato qualcuno a mezz'aria una un paio di volte senza fare collisioni fortunatamente però cerchiamo cerchiamo di arrivare primi cerchiamo di vincere questa gara e niente vediamo vediamo come procede il resto il resto della gara e vediamo che cosa si può fare andiamo andiamo vai che non c'è nessuno fortunatamente nessuna collisione seguiamo ancora in posizione manteniamo la posizione eccola qui la collisione ragazzi eccola qui e qualcuno mi doveva prendere prima o poi va bene non fa nulla non niente di reparabile continuiamo sempre in posizione ragazzi sempre che non faccio qualche cazzata io o qualcuno che gioca in maniera losca però va bene va bene ecco che mi è passato uno davanti al momento perfetto perfetto via libera via libera perfetto perfetto eccolo qui vediamo 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 niente ha deciso che vuole spingere me deve spingere fino alla fine ci avviciniamo ragazzi al giro finale il giro finale vediamo se la spunterò io o la spunterà lui vediamo vediamo speriamo di arrivare primi spero di cosa succederà eccolo qui ancora insistente fino alla fine che compare però va bene spero di recuperare questa questa cazzata diciamo chiamiamola cazzata famo finta che ho sbagliato io e continuiamo e andiamo avanti andiamo avanti cerchiamo di non fare collisioni cerchiamo di di avere una traiettoria è un gioco abbastanza pulito vediamo un po che succede qui o le mi sono quasi atterrato sopra amico chi la fa l'aspetti non si fanno queste cose non si fanno queste cose dai dai che vado a vincere togli di togli di che vado a vincere eccola qui superato 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 e adesso ci abbiamo verso il traguardo ragazzi ci abbiamo verso il traguardo e vediamo se manteniamo la la prima posizione allora come come dicevo voi comunicatemi le gare che volete far pubblicare più malate sono più ci divertiremo io ho pubblicato questa come come inizio e ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta sono arrivato primo il vincitore sono io va bene ragazzi per questo video è tutto non dimenticare di lasciare un commento con il link della vostra gara un saluto al prossimo video